Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi vedremo il continuo di Reali nella nebbia Dunque mi raccomando ragazzi Lasciate tanti like, condividete i video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti Attevate la campanella, postate la Instagram che è qua sotto in descrizione Vi lascio la sigla Grazie a tutti Ce l'ho, micro farci Per cettino Reale Via Grazie a tutti 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 Grazie a tutti